Un incidente questa mattina avvenuto verso le 7 in via Cernaia a Biella ha mandato letteralmente in tilt il traffico. In poco tempo si sono infatti formate lunghe code di auto, nonostante la presenza della Polizia Municipale intervenuta per dirigere le auto verso strade alternative. Due le vetture coinvolte nell'incidente di cui ancora non è stata chiarita la dinamica. Le conducenti dei mezzi, due donne di 59 e 32 anni, sono state trasportate con le ambulanze al pronto soccorso dell'ospedale di Biella per accertamenti. Fortunatamente nessuna delle due avrebbe riportato gravi ferite. Intanto il tratto di strada è stato chiuso per circa un'ora al fine di consentire la rimozione dei veicoli incidentati.